Oh madonna, un po' una Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a Movieland Andremo a vedere un sacco di attrazioni a tema cinema Andremo anche nei veri mondi dei film più famosi Qui c'è già uno spettacolo, guardate che bel panorama E niente, oggi ci rimetteremo insieme a Movieland Ciao Siamo per andarci a bagnare sul superjet E io così sembro Billy E Valentina? No, sono un uomo Gigante Sembriamo Babbo Natale Sono in partenza Bello Questa è la situazione dopo Stiamo completamente frati Tra l'altro ragazzi, a inizio giottra C'era un signore che puliva con il fazzoletto in sedile bagnato E il guidatore del gesto ha detto No, no, fidati, guarda che dopo ti bagni Ed era vero, cioè ragazzi Ho tutto il cuore bagnatissimo Visto che stiamo già bagnati Stiamo andando sui tronchi ad acqua In un mondo ambientato nella preistoria Vedremo dinosauri E... George Dinosauro Ciao Ciao Siamo saliti Ciao Ciao E' bella alta Oh oh, eccoci Ci troviamo sul galeone a forma di ferro d'attino Siamo nella zona quasi più pericolosa Purtroppo non c'erano due posti E siamo pronti a partire Oggi c'erano un brufolo che fa paura Più paura di questo gioco Oh mamma mia Siamo già andando a fare l'unica che io non volevo fare La casa degli orrori Io sono terrorizzata Sono venuta qualche anno fa C'era un altro ambiente Ma ero terrorizzatissima Andiamo Abbiamo appena finito il giro nella casa degli orrori Purtroppo non abbiamo potuto filmare perché era tutto quanto buio E ci mettevamo uno in fila all'altro E niente, è stato molto molto spaventoso Era ambientato in un hotel degli orrori E ci è piaciuto tantissimo Soprattutto mio padre che era terrorizzato Ora vi mostro lo shot Adesso facciamo una cosa caffè Io e Valentina ci prenderemo un frappuccino Ecco qua il nostro grandissimo frappuccino E lì c'era gioco di spaventose in tutte Va su e poi cade giù Io l'ho già fatta quando avevo dieci anni Ma quest'anno ci devo tornare Aiuto Tre, due, uno Guardate le lettere che cadono Pronti eh Aspettate Spaventoso Dopo aver fatto una bella colazione barra pranzo enorme Stiamo andando in una giostra di avventura Come si chiama? Il camion di magma Stiamo emozionati Quando ero piccolina eravamo andati io e mio papà Avevo dieci anni E adesso ci riandiamo Eccolo lì Ci siamo ragazzi Va velocissimo Wow Spero di non perdere il telefono Ragazzi è impossibile filmare Va troppo veloce Aiuto Se questo vlog finisce qui è perché ho perso il telefono oppure perché sono morta Comunque devo dire che i paesaggi qui a Moodyland sono veramente bellissimi Non me li ricordavo così belli Sono felicissima Spero di non perdere il telefono Spero di non perdere il telefono Siamo appena usciti dal cinema 3D purtroppo non ho potuto filmare molto Vi faccio vedere la scenografia che c'era Ma è stato molto divertente Eravamo praticamente all'interno dei mecha, dei robot giganteschi No Praticamente eravamo dentro delle macchine e scappavamo da dei robot giganti In un mondo un po' futuristico e tutto molto distrutto Però è stato molto molto emozionante Mi sono divertita tantissimo Grazie a tutti sono mai avuta così tanta paura sono mai avuta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Spero di riuscire a farvela vedere in qualche modo E noi l'abbiamo fatto Spettacolo Ciao